Una, la Fimi, fabbrica impianti macchine industriali di Viganò, l'Ecco, è nella top 5 mondiale delle aziende che producono linee per la spianatura ed il taglio di nastri metallici in coil. L'altra, la Sacma, nel Varesotto, è ugualmente apprezzata globalmente per la costruzione di impianti per la lavorazione della lamiera. Più di 400 impianti installati, oltre 50 anni di storia, era da tempo in difficoltà tali da aver portato al concordato preventivo. Dal loro incontro è nata una nuova partnership tecnica. Fimi Service, divisione di Fimi Machinery specializzate in manutenzione, assistenza tecnica e revamping di impianti siderurgici, ha acquisito Sacma, un'operazione nata dalla volontà di non lasciarla alla merce di una crisi che ha colpito il comparto dei costruttori di impianti italiani, ma non solo. In primis è per offrire ai clienti possessori di impianti Sacma un referente di così alto spessore tecnico come appunto i Fimi. La recente messa a disposizione di Fimi Service è di fatto il target che si vuole offrire ai clienti Sacma di poter accedere a un servizio per le manutenzioni, gli eventuali revamping attraverso la struttura di Fimi. Non sarà un'assimilazione, Sacma manterrà la propria identità secondo i piani di Fimi, che sta riorganizzando la sede di Sacma. Con i propri commerciali e la divisione di supporto tecnico a service e ovviamente l'archivio tecnico di cui Fimi è entrato in possesso e quindi la possibilità di rioffrire al cliente Sacma l'accesso alla ricambistica. Lo scambio tecnologico sarà a due direzioni. Con la tendenza al revamping, che è sempre più consolidata, chi già possiede impianti Sacma potrà rivolgersi a Fimi. Per un cliente italiano avere Fimi come partner di fornitura significa sicuramente avere la possibilità di accedere ad un livello tecnologico di processo ben difficilmente fornibili da altri costruttori italiani che non hanno avuto le opportunità di Fimi di lavorare con certe strutture europee. Sviluppando un prodotto ad altissima tecnologia con un approccio ingegneristico allo sviluppo del prodotto e sviluppando quindi tecnologie di processo all'avanguardia di cui Fimi è l'unica tenutaria. È un mercato per l'80% estero quello di Fimi, soprattutto europeo, ma non mancano ordini da Cina e Sud-Est Asiatico, India e Russia, America Latina. Un ottimo rapporto di collaborazione con le acciaierie che hanno sviluppato lo stato dell'arte degli acciai e quindi ci hanno messo a disposizione tutto il know-how relativo alla produzione degli acciai affinché noi di conseguenza potessimo sviluppare le soluzioni più idonee per processare al meglio questi acciai. Un rapporto che spiegano da Fimi ha permesso di raggiungere un forte livello di ingegnerizzazione, nonché un'alta specializzazione sugli impianti per la lavorazione degli acciai ad altissima resistenza e di materiali di grosso spessore. È universalmente riconosciuto da tutti i nostri clienti il fatto che il prodotto Fimi è un prodotto unico, è un prodotto che nasce sulla base di uno studio ingegneristico approfondito ed è la conseguenza di questo studio, quindi non è un prodotto che nasce dalla copiatura di prodotti similari o dalla copiatura di prodotti di concorrenti. Una forza che si soma ad un momento per il mercato dei costruttori di impianti che starebbe portando primi segnali positivi. Sicuramente l'iperammortamento, nonché l'industria 4.0, offre ai costruttori italiani una grande opportunità di rilancio dopo così tanti anni di sofferenza. Diciamo che la situazione di mercato che si sta respirando in questi ultimi tempi, soprattutto anche alle recenti dazi che sono stati messi dalla comunità europea, sta offrendo un'opportunità a in generale i centri di servizio italiani ed europei di rinvigorire le proprie casse e quindi di poter portare avanti quegli investimenti che da molto tempo erano stati fermati. Non sarebbero però solamente i sostegni all'investimento tecnologico in chiave 4.0 a soffiare vento di ripresa sul comparto. E anche perché in Italia si stanno oggi forse maggiormente concentrando i centri di servizi in gruppi di un certo tonnellaggio importante, fra i 500 mila e milioni di tonnellate e quindi anche con questi partner sicuramente Fimi potrà diventare un riferimento. E proprio per tutelare il know-how italiano, nei mesi scorsi è entrata nel capitale sociale di Fimi Addafermeccanica, che progetta, costruisce e installa impianti e macchine per la produzione di tubo elettrosaldato e per la lavorazione della lamiera. Obiettivi dell'operazione? Consolidamento patrimoniale e allargamento di prodotti e mercati. È stata un'operazione blitz fatta da noi, grazie all'opportunità che ci è stata offerta in principal modo da uno dei soci, il signor Cesare Grati, di entrare in questo gruppo così tanto blasonato. Quindi il desiderio nostro era principalmente di non lasciare andare Fimi nelle mani di un gruppo austriaco che di fatto ne avrebbe in qualche modo prosciugato gli asset tecnici, chiuso la produzione con anche ripercussioni gravi nella nostra regione.